Due giorni fa Nintendo ha fatto uscire un trailer, un trailer non adatto al 2024. Certo, pesce d'aprile, se lo volete vedere Virtual Boy Pro per Nintendo Switch, che a livello teorico potrebbe anche essere una periferica che esiste, in fondo fai trasformare il paddone della Switch in una sorta di visore in realtà aumentata, dove puoi far andare delle app minori. Fanculo la tecnologia, vediamolo, perché secondo me un fondo di verità c'è, come di consueto. Si parte con la schermata, vediamo una strappona che gioca i suoi videogiochi preferiti, si mette sto cazzo in faccia, che a parte il design, voglio dire, sembra fatto abbastanza bene, sembra una roba credibile. Quest'app sembra credibile. Questo pure, non so perché uno voglia arredare francamente. Qui cominciamo a ridere duro. Vediamo questo indiano, che sono famosissimi per non videogiocare, che litiga con la tipa, e la tipa si fa i cazzi suoi perché è strapersa nel suo mondo, e si mette a fare le pulizie pur indossando il visore, che voglio dire è come ascoltare la musica, e poi va in macchina col visore e comincia a fare le allucinazioni e a giocare a Mario Kart in una macchina vera e c'è un rumore di incidenti. Allora, io amo le tresciate vecchio tipo, Nintendo. Ma questo trailer, pesce d'aprile o no, un fondo di verità ce lo potrebbe avere. Come quella stronzata del Labo, come tutte quelle cacate che Nintendo ogni tanto ciccia fuori, come il Mario Kart con le telecamerine che però guidi la macchina telecomandata in casa. Voglio dire, tecnologicamente parlando, questa roba si può fare. Non so chi cazzo la compra, ma si può fare. Ora, lo fai uscire con la nomina di pesce d'aprile per pararti il culo, ma Nintendo tira fuori i coglioni! Nintendo tira fuori i coglioni come nel 95, Dio bono! Raga, forse il trash nelle pubblicità sta tornando. O forse è fatto apposta per far parlare male del prodotto, così che se ne parli comunque con la pubblicità negativa. Nintendo e Disney hanno un sacco di cose in comune. Scherzo o no, Nintendo l'ha fatto. E forse si torna agli albori delle belle pubblicità che tutti si ricordano perché erano agghiaccianti e politicamente scorrette. Qui Games News Line, pace a voi, credete nel passato. Perché non è futuro sta roba, ragazzi. Sta roba... Nintendont, Sega Dose, Sorriattare... Non è il futuro. 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 Non è il futuro.